Conclusa la seconda sessione di prove ufficiali dell'International GT Open al circuit del Paul Ricard, terzo round del 2017 lungo i 5.842 metri dell'impianto che sorge sugli altipiani della regione Duvar, pole position per l'italiano Andrea Caldarelli alla guida della Ferrari 488 GT3 dell'SF Racing, il pescarese alla seconda prima fila della sua carriera nel GT Open dopo il 2016, segna il tempo in 2.03.572, ben 344 millesimi di vantaggio nei confronti dell'inquadrata Mercedes di Thomas Jäger, collaudatore ufficiale di casa AMG, Ferrari Mercedes dunque in prima fila, seconda linea per l'altro romano Marco Cioci, italiano di casa Ferrari, Fran Rueda alle sue spalle, Vito Postiglione, poleman già in Belgio, autore della quinta prestazione, sesto l'idolo locale Com Ledogar, la facilità con cui Caldarelli ha affrontato il tratto centrale, l'ha portato così a confermare il miglior tempo ottenuto nelle prove libere del venerdì, SF Racing che torna dunque davanti a tutti e sotto la bandiera scacchi dopo il risultato dell'Austria del 2016, le congratulazioni del box italo-cinese col pescarese autore della pole position.